Il 2018 rappresenta un ulteriore passo in avanti per Monumenti Aperti, per i Magomundi e per tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere con noi un accordo e un protocollo d'intesa per fare in modo che la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, sardo, ma in una chiave europea sia valorizzato al meglio. E' per questo che lo scopo principale di questi accordi con Anci, con Anci Giovani, con Slow Food, con il Touring e in futuro con il FAI servono proprio a fare in modo che ci sia una condivisione piena degli intenti che ci rappresentano e che vogliamo portare avanti insieme.